Buonasera, ben trovati all'appuntamento del martedì 19.30-20.30 dove il sindaco risponde alle vostre domande e vi ricordo che nelle ultime puntate ovviamente la trasmissione non è più in diretta ma viene registrata due ore prima quindi alle 17.00-17.15 quindi noi vi daremo i numeri per interagire con noi, potete mandare i messaggi come li avete mandati in che settimana oppure le email e noi li leggeremo la puntata successiva. Dunque ricordo i numeri per interagire con noi, per i messaggi 345-334-1171, per le email il sindaco risponde chioccio al gruppo tv7.com. Se qualcuno vuole telefonare può però vi ricordo che non siamo in diretta e quindi difficilmente riusciremo a passare le telefonate perché ovviamente il tempo della nostra esposizione non c'è e quindi voi mandate i messaggi, mandate le email e noi nella settimana successiva ovviamente leggeremo come faremo anche questa puntata. Ospite questa sera non c'è il sindaco perché è impegnato però c'è il vice sindaco Andrea Micarizzi che lo saluto, buonasera. Buonasera a tutti. che è molto arrabbiato perché lui il predilige è la diretta. Allora dice però siamo quasi in diretta, siamo quasi contemporanei in diretta. Così leggo già un paio di messaggi che sono arrivati la settimana scorsa, va bene che così. Buonasera sindaco, ovviamente niente al sindaco, perciò il sindaco. A proposito di argini bellissimi, ultimamente hanno fatto dei lavori sul canale Battaglia, purtroppo questi lavori hanno rovinato la sommità arginale mediante un eccessivo apporto di ghiaio che costituisce un pericolo per la stabilità delle bici. Quando le capita faccia un giretto, dice che l'argine purtroppo non hanno sistemato perché hanno portato, mi sembra di capire, un eccessivo apporto di ghiaio e quindi... Ma il canale Battaglia, vero? Sì esatto, che costituisce un pericolo per chi lo pratica in bicicletta ovviamente, vedi anche qui ovviamente... Sì sì, usciamo anche dai nostri confini... No, perché il sindaco è anche presidente della provincia, per questo motivo arrivano queste domande. Ma faccio le vizie anche del vicepresidente della provincia. Ormai anche lei ha i carichi da partito. Me li prendo per cinque minuti, non me ne voglia Gottardo. E sono lavori che fa il genio civile, perché la cosa bella è che noi percepiamo gli argini come luoghi di svago e di natura. Sono così, ma sono anzitutto delle infrastrutture di difesa idraulica e quindi il responsabile degli interventi e chi decide anche su come vengono realizzati è il genio civile che dipende dalla Regione Veneto. Quindi la Regione Veneto, in base evidentemente o alle risorse a disposizione, ho un intento ben preciso. Non conosco il lavoro in questione perché sto facendo il vicepresidente della provincia per il tempo di rispondere a questa domanda. È una questione che ha una sua origine da un mandato regionale. Io l'ho letto ugualmente, vice sindaco, per il motivo che i nostri telespettatori mandano questi messaggi durante questa trasmissione e noi leggiamo quella successiva, ovviamente per rispetto ai nostri telespettatori. Ma possono scrivere al genio civile di Padova che risponderà ai motivi di questa sistemazione? C'è un motivo logico per cui l'anagrafa è stata messa all'ultimo piano del distaccamento comunale dell'Arcella? Te lo chiede Francesco Zecchino. I locali, stiamo parlando dell'edificio dell'ex Marchese in via l'Arcella, probabilmente rispondevano maggiormente a questa disposizione perché quello spazio è sia anagrafe ma è anche sportello dei servizi sociali ma è anche spazio per attività di quartiere, associazioni, attività rivolte ai cittadini di carattere ricreativo, ludico o culturale. Comunque sia c'è un ascensore, c'è un ascensore anche nuovissimo, appena realizzato e quindi anche chi è in difficoltà a fare le scale può recarsi al piano attraverso l'ascensore. Sono diverse le anagrafe in città dove si prende l'ascensore per poter usufruire dei servizi. La cosa importante è l'accessibilità, uno al pian terreno prende l'ascensore e arriva in un momento. Lei si ricorda, vice sindaco, la settimana scorsa è nata un attimino, c'è stata un po' di polemica, anzi non poca, per i diritti anagrafici dei figli di coppie omosessuali, quindi è nata, è arrivato un messaggio in merito che dice piena solidarietà e gratitudine al sindaco di Padova nella polemica sui diritti anagrafici dei figli di coppie omosessuali. Il Medioevo dice che per la destra italiana e la Chiesa non è mai finito. La politica per il gusto di polemica o differenziarsi entra su questioni delicate. Io sono molto d'accordo con la posizione che ha preso il sindaco Giordani e così anche altre amministrazioni. non possiamo per partite di carattere politico o anche ideologico rispetto alla questione degli orientamenti sessuali andare a intervenire su quelli che sono invece i diritti dei bambini che su questa cosa evidentemente non c'entrano. Quindi io ringrazio davvero il sindaco Giordani perché su questa cosa ci ha messo la faccia in prima persona ha voluto dare un segnale da una città che è sempre stata aperta da questo punto di vista. Arriva la primavera dell'estate e ovviamente le piazze si riempiono di giovani universitari. La polizia locale ha predisposto dei controlli? Certamente noi insomma saremo lì con tutti i nostri, con i mezzi, sono state fatte anche delle ordinanze per evitare l'uso e il consumo in modo scorretto, insomma senza presidio di alcolici. serve anche un'attività di programmazione che aiuti. Ci sono zone dove ancora oggi facciamo fatica. Io ascolto con attenzione anche alcune manifestazioni che arrivano da alcuni residenti del portello o delle piazze. sono luoghi dove c'è grande aggregazione e che sono anche un po' l'immagine di una città viva, di una città giovane. Noi dobbiamo impegnarci sempre più però a fare in modo che la città possa essere viva fuori ma vivibile anche nelle case dei cittadini, insomma di chi abita in queste zone. Poi c'è Paolo che le chiede, ci sono molte squadre, molte strade scusi in centro città piccole ma molte diverse strade che sono chiuse per lavori per ovviamente per quanto riguarda i palazzi, le case e tant'altro. Quanto possono ottenere chiusa una strada per ovviamente rendere complicato a chi ci passa, a chi ci deve lavorare? Devono motivare i tempi di lavoro e quindi quando un privato, una ditta fa richiesta si analizzano le tipologie di lavoro e si capisce se la richiesta è congrua rispetto a quello che deve essere fatto. Uno ha un tempo, io per esempio devo fare un lavoro in un palazzo dove abito, ovviamente in centro la strada viene chiusa perché c'è bisogno ovviamente delle persone che ci lavorano. Uno ha un tempo, se per fare quel lavoro ci vuole un anno le faccio questo esempio, la strada rimane chiusa un anno, non c'è nessun divento da questo punto di vista? Non ricordo situazioni così limite, però insomma è il diritto di tutti poter intervenire nella propria abitazione come è il diritto di tutti poter utilizzare le strade cittadine, insomma quindi lì appunto c'è un giudizio poi tecnico che valuta la richiesta, la consistenza della richiesta. Il comune a volte interviene dicendo no, per fare questo lavoro ti do meno giorni perché magari è un lavoro impattante e che puoi gestire con un minor tempo oppure non serve occupare tutta la carreggiata, se ne può occupare magari metà in modo tale che la circolazione invece che essere impedita viene ridotta. Ecco, si cerca sempre di arrivare a un compromesso nel centro storico, quando questo avviene insomma ovviamente le strade essendo più strette è più fastidioso e quindi anche più incisivo deve essere l'azione nostra di controllo dei nostri uffici. Vedi che arrivano messaggi, ne leggo un altro. La signora Giovanna dice ultimamente in città e nelle piazze ci sono dei ragazzi che si prendono a Cazzotti e fanno ovviamente delle liti l'ultima in piazza a Cavour recentemente. Ma questi ragazzi quando vengono identificati dice, vengono presi di provvedimenti almeno dire di pulire, di far questo, di far quell'altro oppure essendo giovani vengono lasciati, vengono solo, viene fatta solo una tiratina d'orecchia? Non ho in mente, beh insomma si contravviene a delle leggi in modo particolare, insomma poi interviene la polizia e quindi c'è una pena se in qualche modo esiste un reato. Ce ne sono parecchi continuamente? A me preoccupa più il lato come dire sociale, quello che tiene più al comune, noi non abbiamo lo strumento della polizia o della giustizia del tribunale, per quanto insomma, ma il fatto che in alcune zone i nostri ragazzi, come dire, ci siano situazioni di questo tipo? Sono quasi soprattutto in seconda generazione più o meno quelli che siamo riusciti a leggere sui giornali a capire, insomma. Però ci sono anche situazioni di famiglie abbienti, perché quando alcune cose arrivano, avvengono in zone molto centrali e ci sono anche zone molto centrali per il suo Duomo, per esempio, poi hanno provenienza in realtà di famiglie che sono famiglie benestanti, insomma noi dobbiamo trovare anche il modo di stare più vicino ai nostri ragazzi, che non è che nascono delinquenti o nascono violenti. Quindi, insomma, su questo, oltre ovviamente agli strumenti della repressione che appartengono alla polizia, al prefetto, alla questura e non al comune, e quelli della giustizia, dei tribunali, che anche questi non competono al comune, noi forse abbiamo il compito di guardare insomma alle famiglie e anche al contesto urbano, per esempio Piazza Duomo abbiamo migliorato molto l'illuminazione cercando di evitare che ci siano angoli, come dire, più nascosti. Ecco, anche l'aspetto, anche la vivibilità di uno spazio, insomma, aiuta anche a prevenire determinate situazioni. Ebbene, in effetti adesso li apriranno di locali, li proprio in Piazza Cavour, e questo male con i parateatrici fuori riuscirà a, ovviamente, a togliere anche quella zona che diventi integrato alla sera, proprio per il motivo che ha appena spiegato il vicesindaco della Michalicci. Senta, c'è stata una campagna per il consumo responsabile dell'acqua, di cui lei è il protagonista principale, il protagonista. Ce la vuole raccontare un po'? Sì, insomma, in questi, ormai in questo anno, insomma, abbiamo tenuto monitorato questo fenomeno, dall'estate scorsa abbiamo fatto i conti, toccando con mano di quello che sono gli effetti del cambiamento del clima. Noi per la prima volta ci siamo trovati con i canali in secca in città e quindi, insomma, stiamo lavorando con gli enti competenti, anche qui alla Regione Veneto, in modo particolare che se ne occupa. Un tema sono i fiumi e i canali, un altro tema è invece l'acqua del servizio idrico, ovvero quella che usiamo nelle nostre case aprendo il rubinetto. È un altro binario, un altro veicolo che ci porta l'acqua, non sono i nostri canali, i nostri fiumi, ma noi prendiamo l'acqua dalle risorgive del Vicentino a Villaverla. La situazione qual è oggi? Che se i canali e i fiumi sono in grande difficoltà, quelli del nostro territorio, la nostra falda ha ancora acqua a disposizione. Quindi noi non abbiamo in questo momento un pericolo di rimanere senza acqua e a casa, ma abbiamo l'obbligo di utilizzare in modo responsabile questa risorsa, perché la falda si sta abbassando. Cosa vuol dire in modo responsabile? Perché la falda si sta abbassando. In modo responsabile significa sapere che le nostre abitudini, i nostri comportamenti, ciascuno singolarmente per il numero di abitanti della città, incidono sul consumo di acqua. Avendo la falda che si abbassa sempre di più, dobbiamo consumarne meno. E quindi la campagna di uso responsabile dell'acqua dà alcune indicazioni, per esempio, anche molto semplici, su come utilizzare gli elettrodomestici che utilizzano l'acqua, prediligere per esempio i lavaggi a bassa temperatura, farsi la doccia piuttosto che il bagno, nell'irrigazione dei giardini, prestare alcune attenzioni, per esempio irrigare il giardino nelle ore. No, fermo, non sapevo che la doccia consumasse meno del bagno. Si, si imparano anche queste cose facendo... Io immaginavo che la vasca la riempio, mi faccio il bagno, a prescindere che io faccio sempre la doccia, però la doccia posso rimanere sotto anche un'ora e io voglio dire... Ecco, se rimane un'ora allora è meglio fare la vasca, però una doccia rapida, ecco, ci consente di risparmiare molta acqua. L'irrigazione dei giardini è meglio irrigare nelle ore di buio, quando il terreno è più freddo perché consuma e vuole meno acqua. Magari dotarsi di strumenti di raccolta dell'acqua piovana in modo tale che noi riusciamo a riutilizzare dell'acqua e non usare quella irrigua, chiudere banalmente il rubinetto quando ci si lava i denti, usarlo solo per... tutti i piccoli gesti che se lo faccio io, lo fa lei, siamo in 207 mila abitanti e riduciamo di molto... Siamo un po' di più. A Padova siamo a 207 mila residenti. Sì, residenti. Ah, poi che ogni giorno usano, ha ragione, quelli che vengono a lavorare. Cioè l'università e tant'altro, saranno anche 400 mila io credo. Quindi utilizzare in modo più responsabile una risorsa che noi diamo per scontato che ci sia, che c'è e che ci sarà sempre. In realtà non è così. È un servizio che abbiamo noi padovani, insomma, ma in tutta Italia, in tutta Europa non è così. Ecco. Certo. Senta, la settimana scorsa avevo iniziato questo ragionamento con il sindaco, lo continuo con lei perché mi sono un po' accarbiato non con il sindaco, però con la politica. l'Europa ci presta 200 miliardi per il fondo del PNRR, poi ti accorgi che, lo sapevamo e lo sapevano tutti, che questi soldi sarebbero, glielo dico dopo la pubblicità.